Per le strade del quartiere Arganzuela di Madrid, alcuni residenti manifestano al suono di slogan Non abbattete i nostri alberi. Per le strade del quartiere Arganzuela di Palestina. Solo qui, nel entorno della calle Ancara, si talaranno un centenar di arboli, però il progetto della linea 11 contempla la tala di più di 1000 arboli. I vicini reclamano alternativi. Stiamo a favor di che questo metro exista, però non così, non queremos che talen i l'arbrei. La maggior parte delle strade europee va elaborando e facendo un desarrollo di società sostenibile, sin embargo, qui vamos in direzione contraria. Questa è la ubicazione originale della stazione. Di un mese a un altro, i vecini ricevono una carta in cui si potevano disculpas perché la obra si va a fare qui, e vieron che si va a fare qui. Abbiamo trasladato, senza contare con i vecini, e senza fare una evaluazione ambientale, la stazione in medio di questa arboleda histórica. Questo è spagna, non è un paese scandinavo. qui in junio non si può stare a pleno sol a le 11 da mattina. Non sappiamo se hanno tenuto in cuenta i costi che supone per la gente perdere la única superficie con questa sombra in tutto Madrid-Rio. La comunità di Madrid si ha comprometito a parar il progetto e studiare nuove alternativi per minimizzare il impatto, però i vecini di Arganzuela se mantiene in alerta. In Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.